Solleciteremo l'assessorato dei trasporti affinché si possa nel più breve tempo possibile organizzare un incontro con i rappresentanti della provincia di Alessandria e dei comuni dell'Ovadese per concertare al meglio le politiche sulla gestione delle tariffe ferroviarie di quel territorio. Così si è espresso il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, che con il consigliere segretario Tullio Ponso ha ricevuto il 22 maggio a Palazzo Lascaris una delegazione di sindaci e l'assessore dei trasporti della provincia di Alessandria Giancarlo Caldone.